Buongiorno a tutti, oggi è domenica 31 gennaio e la quarta domenica del tempo ordinario. Ascoltiamo il Vangelo secondo Marco capitolo 1 versetti dal 21 al 28. In quel tempo Gesù entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao insegnava ed erano stupiti del suo insegnamento e gli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Ed ecco nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo che vuoi da noi Gesù Nazareno sei venuto a rovinarci io so che tu sei il santo di Dio e Gesù gli ordinò severamente taci esci da lui e lo spirito impuro straziandolo e gridando forte uscì da lui. Tutti furono presi da timore tanto che si chiedevano a vicenda che è mai questo un insegnamento nuovo dato con autorità comanda perfino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito ovunque in tutta la regione della Galilea. Oggi è la quarta domenica del tempo ordinario come dicevo il Vangelo ci fa meditare così come tutta la liturgia l'azione autorevole di Gesù come signore della vita e maestro d'amore. Nel testo del Vangelo infatti si mette in evidenza che l'insegnamento di Gesù nella sinagoga è diverso da quello degli altri maestri perché Gesù è scritto insegnava loro come uno che ha autorità. In cosa consista allora questa autorità di Gesù? Sono proprio gli stessi presenti al culto di quel sabato a comunicarcelo. Dopo essere stati spettatori di una liberazione da uno spirito impuro uscito da un uomo che era lì proprio presente insieme a loro in quel luogo santo della sinagoga. Ecco queste persone prima si avvertono stupore per l'insegnamento di Gesù. Poi dopo questo evento e quindi alla fine del testo arrivano a provare un senso di timore e a esternare anche la motivazione di questo sentimento. comanda perfino agli spiriti impuri e questi obbediscono. Queste sono le parole di queste persone. Ora non solo quelle persone nella sinagoga di Cafarnao ma anche tutti noi oggi all'annuncio di questo episodio del Vangelo possiamo avvertire l'effetto di questo atto autorevole compiuto da Gesù. Però se quello che forse a noi fa più impressione è il comando proprio che porge Gesù al demone, a quelle persone ciò che provoca timore è piuttosto il fatto che gli spiriti impuri obbediscano a Gesù. Secondo la mentalità giudaica infatti le creature di natura spirituale non dispongono di una propria volontà, non hanno dei desideri e neppure sono liberi di fare delle scelte pur possedendo anche un'intelligenza e una potenza anche superiore a quella dell'uomo. Di natura spirituale sono per esempio gli angeli nella mentalità biblica che proprio perché non hanno volontà, desideri e volontà e libertà anche propria fondano la loro esistenza dal principio dell'obbedienza diretta a Dio. Ecco per quanto riguarda i demoni la situazione è un po' complessa perché come natura sono esseri spirituali quindi non dispongono di volontà, di desideri e di libertà però rifiutano anche il principio dell'obbedienza per cui sono condannati al disordine e alla confusione e che comunicano agli esseri umani in modo da generare i loro pensieri contorti ed oscuri fino a portarli al rifiuto della vita e quindi alla distruzione e alla morte. Da questo comprendiamo che Gesù esercita la sua autorità per la sua specifica capacità che è solo sua di farsi obbedire da tutti perfino dagli spiriti impuri è scritto qui. L'autorità di Gesù infatti è la sua universale e potente amabilità che può cambiare in noi non solo certi comportamenti o certi pensieri che ci influiscono sul carattere per esempio ma la profondità proprio del nostro cuore per farci percepire l'amore e renderci capaci di amare. San Giovanni Bosco che oggi ricordiamo anche se diamo giustamente precedenza alla celebrazione domenicale ripeteva sempre ai suoi giovani educatori studiate di farvi amare. Ecco lui aveva capito che noi esseri umani dobbiamo esercitare la nostra capacità di amare perché di fatto obbediamo con gioia a chi davvero ci sa amare cioè lo percepiamo e quindi siamo portati ad obbedire chi ci ama e non chi ci comanda come se fossimo dei robot. Alla fine del testo poi leggiamo che l'autorità di Gesù mette anche in questione queste persone che non sono più solo stupite ma sono proprio intimorite perché cominciano a percepire che è successo qualcosa di grande davanti ai loro occhi e questo evento provoca domande riflessioni pensieri e sono pensieri che aprono a una ricerca che cos'è mai questo si chiedono non sono pensieri di morte provocati dai demoni ma pensieri di vita pensieri che aprono l'intelligenza quelli che suscitano le azioni di Dio pensieri che risvegliano il desiderio di ristabilire un ordine un'obbedienza che è armonia relazione che ci lega a tutta la creazione a cui siamo chiamati a rispondere per essere responsabili e non per essere semplicemente utenti di questa di questa creazione. La liturgia di questa domenica allora ci aiuti a sentire tutti il desiderio di vivere nell'obbedienza amorevole di Gesù. Preghiamo insieme l'orazione opzionale della colletta di questa della messa di oggi alla quale parteciperemo. O padre che hai inviato il tuo figlio a insegnare con autorità la tua via e a liberarci dalle potenze del male fa che sperimentiamo l'intima gioia di affidarci unicamente a te per testimoniare con la vita la nostra fede. Amen. Buona domenica.